Guardi, io sono membro della Commissione Antimafia e quindi sto seguendo molto da vicino tutta la vicenda dei dossieraggi legati al ruolo di Striano. Peraltro sono tra quelli che non fanno sconti. Io ho chiesto l'audizione di Derao, sono stata la prima a chiedere di capire come funzionasse il sistema della DIA nell'epoca in cui questo sistema diffusissimo di dossieraggi è partito. E ho ascoltato le parole di Melillo, Cantone, quando sono venuti, hanno raccontato del lavoro istruttorio che stanno facendo, ma hanno anche parlato di un verminaio intorno a questa vicenda. Quindi non sottovaluto nessuna vicenda di spionaggio, stiamo parlando della lesione di diritti costituzionali e stiamo parlando di vicende inquietanti, come nel caso specifico. Nessuno crede che Striano abbia potuto agire solo per curiosità, per banale curiosità. Bisogna andare a fondo a quella vicenda, perché un paese che ha vicende di questo genere è un paese che non è libero. E quindi noi, come dire, andremo fino in fondo, io lo dico, non mi interessa nessuna parte politica. Destra, sinistra, guarderemo tutto. Ora, il caso specifico che veniva citato, potrebbe essere anche la stortura di un singolo che all'interno di un istituto bancario andava a informarsi. Può essere, però è una resa. È una resa della pubblica amministrazione, è una resa di tutti noi, se la banalizziamo. Perché comunque stiamo parlando di accessi illegali in un sistema di informazioni. No, ma colpisce, diciamo. Ma le faccio un esempio. Ma se io... Non andiamo a guardare gli aspetti più di colore, guardiamo quelli invece delle vite personali. Se io sono un cittadino, chiunque sia questo cittadino, che ha un problema di salute e che ho, diciamo, dal mio conto corrente, un'evidenza rispetto a esami clinici che sto facendo, perché la mia vita personale deve andare nelle mani su queste persone. Non c'è neanche bisogno di avere il problema di salute. Io semplicemente non voglio che si sappia come muovo, come spendo i miei soldi. Ma voglio dire anche per cose delicatissime della vita delle persone. Potremmo sentire anche l'onorevole Tocco.